Una farmacia aperta ha anche probabilmente della creatività e ha un'apertura mentale molto grande che caratterizza e colora Antonella Freno, la dottoressa Antonella Freno è piena di iniziative sicuramente, una farmacia seria, responsabile è ricca di valori anche goliardici, anche divertenti, cioè curarsi comunque può diventare anche un divertimento Francesco Castiglione, Aida Flix che viene dalla Spagna ed è famosa per Il Segreto come attrice del Segreto e Carlo Caprioli Ricerca costante al fine di trovare le migliori soluzioni alle tue esigenze e necessità Accessibilità, prezzi corretti, informazioni sulle caratteristiche dei farmaci e sulla provenienza Amicizia La farmacia è essenzialmente uno spazio umano e vicino è il luogo amico per eccellenza La farmacia è essenzialmente uno spazio umano e vicino La farmacia è essenzialmente uno spazio umano e vicino